Buonasera a tutti, sono Roberto Barbieri, lavoro per Oxfam, Oxfam Italia, molto felice di essere qui questa sera a Napoli, sono molto contento che Expo dei Popoli sia questa sera a Napoli. Io chiederei, cercherò di parlarvi di fame e di diseguaglianza, soprattutto di che cosa possiamo fare noi, qual è il nostro ruolo. Chiederei la vostra collaborazione, chiederei un po' una scomodità, le persone che sono nella fila centrale, io chiedo che si alzino in piedi per favore. Sì, Giobbe, da Giobbe in avanti. Alzatevi. Ecco, se noi fossimo, immaginiamo di essere il mondo per un attimo. Queste persone sono tante o sono poche, potremmo discutere, le vediamo molto bene, sono abbastanza. Sono le persone, una persona su nove, che non hanno da mangiare, che non fanno quel piccolo gesto quotidiano, andare a tavola, mangiare una pizza, prendere un panino, che tutti noi facciamo. Io chiederei di rimanere alzati, lo so che è una scomodità. Proprio a voi. Proprio a voi, a qualcuno deve capitare. Sono distribuite così, in Asia, in Africa soprattutto, il 98% è lì, ma il paradosso, il grande paradosso che tre quarti di loro sono produttori di cibo, sono agricoltori. Abbiamo il paradosso che chi produce cibo ha fame. E non è un problema di cibo disponibile, di risorse disponibili, è un problema di diseguaglianza, alla fine. È un problema quei produttori, quei contadini producono, commercializzano in condizioni di svantaggio. Lo fanno in termini di accesso alla terra, lo fanno in termini di accesso all'acqua, lo fanno in termini di accesso al credito delle conoscenze. Sono donne e qui abbiamo tre donne, Maria, Giospin, Aramla, che raccontano tre storie diverse, tre storie di problemi che riguardano il perché le persone hanno fame. Tutte hanno lo stesso problema, portare a casa alla fine della giornata cibo per sé e per i figli. Giospin vive nelle Filippine, nell'isola di Mindanao e questa è la fotografia di alcuni anni fa quando un tifone ha distrutto non solo i suoi raccolti ma anche la sua casa. Quando parliamo di cambiamenti climatici, parliamo dell'effetto serra, significa che nel mondo stanno aumentando quei fenomeni di siccità, quei fenomeni di alluvione di cui magari i giornali non parlano nemmeno. Ma alla fine Giospin, quando semina, non sa se potrà raccogliere. Il tema del cambiamento climatico è un tema fondamentale per la lotta alla fame. Noi abbiamo delle stime che ci dicono che se nulla cambierà in termini di cambiamento del clima probabilmente i prezzi da qui al 2050 aumenteranno dell'83% e questo significa che avremo almeno 25 milioni di bambini denutriti. Maria la trovate in questa landa desolata, prima lì c'era una foresta e questo significa che la terra è un problema, è un problema perché è sempre più un bene scarso, è sempre più un bene che le aziende, le multinazionali, che i grandi investitori si vogliono accapparrare e spesso questo accade non tenendo minimamente in considerazione i diritti delle persone che li vivono. Dal 2000 ad oggi stiamo parlando di 38 milioni di ettari, una superficie più grande dell'Italia che è stata oggetto di grandi acquisizioni di terra. Se queste grandi acquisizioni di terra significano accaparramento delle terre, significano escludere le comunità dalle loro terre, significa mandare sull'astrico milioni di persone. Aramla, Aramla paga il prezzo della mercificazione del cibo. Sul cibo si specula e la speculazione fa sì che i prezzi aumentino o diminuiscono in maniera molto rapida. Il cibo è diventato anche l'occasione, i prodotti alimentari si producono non esclusivamente per mangiarli ma per fare il carburante. Questo significa che c'è una grande domanda e che i prezzi aumentano, aumentano spesso indiscriminatamente. Nelle ostre ultime crisi alimentari abbiamo avuto l'83% dell'aumento dei prezzi delle derrate alimentari tra il 2005 e il 2008. Il grano nel 2011 è aumentato del 181%. Pensate che cosa vuol dire per chi deve pagare tre quarti del proprio guadagno per acquistare cibo. Vuol dire essere sull'astrico. Questi sono i problemi. E allora noi ci dobbiamo chiedere che cosa possiamo fare. E guardate c'è un tema che mi è molto caro, che è il punto chiave su cui vi voglio lasciare. E' cosa possiamo fare noi per cambiare la situazione, come tutto questo ci riguarda. Dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che non tutto è ineluttabile. Che queste dinamiche di potere possono cambiare. Cambiano se la società civile, se le persone ci tengono, si mettono insieme e fanno sentire la loro voce. Qui alcuni risultati. Dobbiamo essere consapevoli dei risultati anche positivi che si sono avuti negli ultimi anni. Ai governi è stato chiesto di adottare delle linee guida internazionali sui regimi fondiari. In paesi come il Guatemala qualcosa si muove e delle comunità vedono riconosciute il diritto alla loro terra. L'Unione Europea solo pochi mesi fa ha riconosciuto un tetto per le produzioni di cibo che vanno poi ai biocarburanti. Qualcosa si muove. Qualcosa si muove anche nel caso delle imprese. E qui parlo della campagna behind the brand. Scopri il marchio. Quando i cittadini lo chiedono le imprese rispondono. Comportatevi in maniera responsabile. Avete un grande ruolo. Dieci multinazionali nel mondo governano il 70% di quello che troviamo nei nostri supermercati. se loro cambiano le loro politiche il rispetto per i contadini, per coloro che hanno fame sarà enorme. E allora 700.000 persone hanno fatto sentire la loro voce. E questo ha prodotto dei cambiamenti. Mars, Mondelez, Nestlé che governano il 30% del mercato del cacao dove le lavorano dicono dobbiamo fare attenzione a quello che succede in quei campi. Pepsi Cola, Coca Cola, grazie alle voci dei cittadini stanno cominciando a dire attenzione a dove arriva il nostro zucchero. Sono impegni per il momento sulla carta. Non basterà. Dovremo monitorarli. Però qualcosa può cambiare. E gli stili di vita che sono stati ricordati. Gli stili di vita pensiamo a noi stessi, ridurre gli sprechi, seguire le stagioni, mangiare meno carne. Sono tutti anche concetti che se pensiamo a solo dieci anni fa, come dire, non esistevano. Pensate a termini come chilometro zero, a termini come commercio eco, a termini come impatto ambientale delle produzioni. Erano posseduti da una nicchia di persone. Ora sono cultura molto più diffusa. E questo cosa significa? Che sono piccoli successi, grandi successi, di cui dobbiamo nutrirci per il futuro. Dobbiamo avere, e chiudo, fame di cambiamento. Dobbiamo partire da qua e dobbiamo esercitare un nostro ruolo. Per mettere questi signori a sedere, per invitarli alla nostra tavola, bisogna far sì che esercitiamo tutti un ruolo. Dobbiamo essere meno indifferenti e dobbiamo far sentire la nostra voce. Dobbiamo far sentire la nostra voce con la politica. Chiediamo alla politica che si occupi delle cose importanti. A pochi mesi si negozierà l'accordo sul clima, come è stato ricordato. Di questo dobbiamo chiedere conto. Non della sparata del politico della settimana che fa cambiare dello zero punto le percentuali di voto. Dobbiamo votare anche con il portafoglio. Dobbiamo fare delle scelte responsabili. Premiamo le imprese che cambiano. Premiamo le imprese che esercitano un loro ruolo significativo nelle catene produttive e che guardano in faccia i loro produttori. E infine cambiamo noi stessi, cambiamo gli stili di vita. Forse non è così drammatico, non è una tragedia se rinunciamo a far fare migliaia di chilometri ad un prodotto che potremmo avere due mesi dopo dal campo del vicino. Tutto questo dobbiamo fare per mettere a sedere queste persone che ora sono stanche. Noi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, nei prossimi anni vedremo ancora le statistiche, dei numeri. Ora cerchiamo di ricordarci che dietro ai numeri ci sono sempre dei volti, ci sono questi signori che sono stati in piedi e che sono coloro che se noi fossimo il mondo hanno fame. E è nostro compito riuscire a vincere la nostra indifferenza e metterli a sedere. Dobbiamo avere fame di cambiamento. Grazie, scusate, è toccato a voi? Grazie mille.